eventualmente se è presente una componente continua la formula mi dava quel y0 che era la componente continua e dopo c'era sommatoria da 1 a n di h della della mia delle mie varie sinusoide la sommatoria delle varie sinusoide ma c'è da considerare Fourier generalizza il problema potrebbe esserci una componente continua ecco che in questo caso l'interruttore differenziale tipo b anche in presenza di armoniche ed eventualmente componente continua è stato fatto opposta è in grado di non essere accecato da queste da queste componenti e quindi lavorare ancora correttamente quindi se siamo in presenza vedendola al contrario se ci sono tanti scatti intempestivi di interruttori differenziali andare a guardare il contenuto armonico perché se ho differenziali tipo c questi scattano un altro problema come dicevamo perché se un contenuto armonico anche non in presenza di guasto è l'alimentatore è il sistema di alimentazione della dell'interruttore che non è più in grado di generare una opportuna alimentazione circuito elettronico in queste condizioni l'interruttore differenziale scatta per sicurezza quindi se abbiamo tanti scatti intempestivi e oggi se ne registrano direi tantissimi e uno fa un minimo di analisi potrà rendersi conto di questa situazione che ho appena detto che è spesso risolvibile tra cercare di capire soprattutto se il disturbo arriva dall'esterno la lente distributore è difficilissimo che riusciamo a togliercelo e conviene cambiare l'interruttore differenziale passando l'interruttore differenziale tipo F che probabilmente ci risolve i problemi di scatti intempestivi che mantiene invece la sicurezza dal punto di vista delle componenti riguardo verso terra. Dal punto di vista adesso andiamo a vedere quali sono gli effetti dal punto di vista economico che queste armoniche ci possono dare. Allora l'abbiamo già detto perdite per effetto Joule, mino potenza disponibile e quindi se devo far fruzzare le cose o mino potenza disponibile vado a un contratto superiore quindi devo aumentare la potenza contrattuale per compensare le perdite, sovradimensionare i sorgenti di alimentazione, sovradimensionare le condutture, mi riducono la vita dei materiali, abbiamo detto che i consumatori così le macchine funzionano bene ma chiaramente si sovraccaricano e quindi si usurano prima. L'associazione canadese ha fatto un minimo di calcolo ed è andato a vedere che se ho una distorsione armonica totale in tensione fino al 10% o una riduzione della vita dell'apparicatura monofasi pari al 32,5%, degli apparecchi trifase si riducono del 18%, i trasformatori vedete come dicevamo sono i più robusti, si riducono del 5%, poi gli scatti intempestivi come dicevamo prima degli interruttori differenziali in particolar modo ma anche di altre protezioni, gli interruttori magnetotermici subiscono questo effetto di surriscaldamento quindi si declassano un attimo, dobbiamo tenerne conto e quindi si potrebbero scattare per sovraccarico ma in realtà per correnti che non sono le loro correnti nominali o superiori alle loro correnti nominali. Quindi questa è un po' una valutazione economica dell'impatto di ammonica di tensione fino al 10% che ripeto è un valore alto. Come facciamo? Siamo arrivati veramente alla fine per ridurre le nostre ammoniche. Le nostre ammoniche sembra se possibile, ecco, dobbiamo andare a cercare di posizionare i carichi distorcenti più lontano dai carichi sensibili e qui lo vedete bene, questo è il mio impianto, se ho un carico sensibile, questa è la mia impedenza di linea e ho un carico che so che è inquinante, allora io metto il carico inquinante qua, cosa succede? Succede che lui assorbe la corrente che viene distorta e ritorna in questo punto, è qui che ho la caduta di tensione distorta. Su questo tratto di linea ho ancora una corrente che viene assorbita in modo sinusoidale anche se qui ovviamente le correnti si sommano, quindi l'effetto comunque lo sento lo stesso, ma in minor modo, proprio perché ho un'impedenza generalmente montata, che è l'impedenza di linea, perché quella, l'abbiamo visto due giorni fa, è la corrente armonica generata dal carico per l'impedenza della linea che mi genera la tensione armonica che mi va poi a creare il problema. Quindi più sono vicino, più questa linea è corta e quindi più posso considerare questa impedenza bassa e quindi minimizzare il problema delle armoniche di tensione. Quindi spostarla, questo è un tipico esempio sempre che si possa fare, l'abbiamo visto prima, mettere i carichi inquinanti più a monte possibile, quindi non a valle o vicino a un carico sensibile, ma poterli portare più a monte o addirittura, se si riesce a fare, separare le alimentazioni. Chiaramente questo ha un aumento di costi impiantistici mica da poco. Poi potremmo anche capire se questi due trasformatori possono darci una convenienza dal punto di vista gestionale dell'alimentazione piuttosto che è un unico trasformatore di taglia più grande, però generalmente, anzi, aumentano i costi impiantistici. Possiamo utilizzare trasformatori di tipo particolare che hanno, in funzione del loro indice orario, hanno la possibilità di bloccare un certo tipo di armoniche. Quindi un collegamento primario triangolo e col secondario che invece è una stella triangolo, arresta le armoniche di ordine 5 e di ordine 7. Il classico di Y, quindi trasformatore primario triangolo e secondario a stella, arresta le armoniche di ordine 3. Quindi anche questo può essere, possono essere utilizzati per bloccare certi tipi di armoniche, oppure andare a incrementare delle induttanze sulla linea. A questo punto, soprattutto nel caso di variatori di velocità, per limitare l'armonica si possono installare delle induttanze di linea che hanno l'effetto di aumentare l'impedenza globale del circuito. E aumentando anche qui questa impendenza globale del circuito, c'è da capire che sono un po' più scettico su queste, se funzionano bene. Io preferisco vedere queste induttanze come appunto dei filtri, sostanzialmente lo sono, che vanno però a battermi le armoniche. In fondo anche per i condensatori, come vedete hanno l'effetto, quando ho il condensatore, vanno ad aumentare l'impedenza LC del circuito di induttanza condensatore, anche qui questo ha un effetto sulla riduzione delle correnti armoniche. Cosa succede invece quando nei nostri impianti, quindi quando abbiamo un impianto di tipo collegamento tipo TNC poco usato in Italia, un impianto con collegamento TNS, il collegamento TNC, sostanzialmente vado subito alla sintesi, è sconsigliabile se abbiamo dei calchi sensibili e abbiamo delle armoniche, ma proprio perché queste circolano come abbiamo visto sul conduttore di neutro, il neutro è insieme al conduttore di protezione, infatti abbiamo il conduttore del pen di fatto, e cosa vuol dire? Che si possono generare delle differenze di potenziali di riferimento anche di diverse decine di volte, e questo è mal tollerato da tutte le apparecchiature con calchi sensibili. Nel TNS il programma si pone perché il conduttore di neutro è separato dal conduttore di protezione, quindi i potenziali verso terra rimangono costanti, decodentici, non nel neutro con i fenomeni che abbiamo visto precedentemente. Arriviamo ai filtri e siamo veramente arrivati alla fine, i filtri ce ne sono di tre tipi, ci sono i filtri attivi, i filtri passivi e i filtri misti. Partiamo dai filtri passivi, i filtri passivi sono passivi, quindi non devono essere alimentati, sono molto efficaci, vengono utilizzati in impianti molto grandi, quindi con potenza come vedete, carichi inquinanti che hanno una potenza superiore a 200 kV, hanno un unico difetto. Vengono dimensionati, vedete che sono appunto delle induttanze e dei connessatori, sono dei gruppi risonanti che hanno il compito di drenare, di risuonare per una determinata frequenza. Una determinata frequenza vuol dire per quell'armonica che ha quella frequenza. Quindi io in questo impianto devo essermi fatto l'analisi armonica e se devo buttare giù tre armoniche di ordine diverso, devo mettere tre filtri, uno per l'armonica di ordine 5, uno per quello 7 e uno per quello 3, perché sono tre frequenze diverse. Oppure posso decidere che il contributo di due armoniche è proprio dallo spettro ininfluente e di abbattere solo l'armonica che mi dà più disturbo in termini di appiezza. Però, come dico, è costoso perché sono anche molto efficienti, resistono benissimo a una lunga vita, proprio perché sono passivi, ma hanno il problema di funzionare uno per ogni singola armonica. Invece il filtro attivo è un filtro che viene alimentato, ha la capacità di adattare il gruppo LC, se possiamo definirlo così, all'interno del suo sistema e quindi di iniettare una corrente in rete, dopo che ha fatto la sua bella analisi, uguale e contraria alle armoniche che si ritrova sulla rete. Quindi va a iniettare correnti uguali e contrarie che, pertanto, si sommano vettorialmente e si annullano vicendevolmente. Quindi la corrente che va verso il carico, in questo caso, è una corrente che è perfettamente sinusoidale. Possono essere utilizzati, generalmente, per carichi che hanno potenze inferiori ai 200 chilometri, perché non sono più piccoli. La soluzione del filtro ibrido o filtro misto include, come vedete bene dallo schema, un filtro attivo più un filtro passivo. Quindi è usato, anche in questo caso, per compensare carichi distorcenti di potenza elevata, quindi sopra i 200 kilowatt, e hanno la capacità, sommano, assommano, mentre sono più costosi, assommano sostanzialmente le due caratteristiche principali dei due filtri che lo compongono. Quindi si adattano bene alle varie armoniche che sono presenti attraverso la parte attiva, ma la parte passiva, diciamo così, è dedicata all'abbattimento delle armoniche, delle armoniche di una determinata armonica e quindi va dimensionata quella parte per l'armonica che più ci crea di studio. Criteri di scelta. A questo punto i filtri passivi permettono di compensare l'energia reattiva, hanno una grande capacità di filtraggio, come dicevamo, in corrente, in termini valoriati di corrente. L'impianto in cui installare il filtro passivo deve essere stabile e con poche fluttuazioni di carico. Se la potenza reattiva fornita è importante, è consigliabile mettere fuori tensione il filtro nel periodo di carico ridotto, proprio perché quell'impedenza, o quel circuito LC, creerebbe problemi proprio alla parte di potenza reattiva, potrebbe aumentare la dismisura o viceversa, addirittura a portare in capacitivo un impianto. I filtri attivi, invece, permettono il filtraggio di armoniche su un'ampia gamma di frequenza, grande precisione, permettono di filtrare qualunque tipo di carico. La potenza, però, che loro possono fornire è limitata. Quindi, come dicevamo prima, da utilizzare per potenza inferiore di 200 kW i filtri ibridi, come dicevamo, associano sostanzialmente le due. Quindi, se ho una armonica che è molto inquinante e ben definita, il filtro ibrido mi consente di mantenere e di essere efficace sulle eventuali altre armoniche presenti è molto efficace su quella più inquinante. Con questo ho concluso. Vi ringrazio per l'attenzione. È stata una lunga cavalcata, direi che questa sera e resto disponibile per le domande del caso. Grazie a tutti. Grazie. Allora, cominciamo con la prima domanda. In merito al dimensionamento del neutro, come si fa a progettare correttamente la sezione nel caso in cui non siano ancora note, al momento della progettazione, le specifiche relative alla distorsione dei carichi ed in particolare a THD? Domanda più che lecita ed effettivamente è uno dei maggiori problemi. Diciamo che quello che può essere sia l'esperienza mia che di tanti altri colleghi, bisogna clasterizzare un attimo gli anni. Perché? E voglio esagerare volutamente. Parliamo di data center, per quanto siano filtrati i server eccetera eccetera, a meno che non abbia dei server direttamente in corrente continua, poi si apre tutto un altro aspetto. Io considero il data center, mi aspetto, comunque sia, anche se mi dite con il data sheet praticamente dei server che hanno una reazione armonica pari all'1% o 2% perché li ho comprati di marca, spettacolare, io lì, perdonatemi, non ci credo e considero contenuto armonico e qui prendo la CEI o potremmo utilizzare le slide che abbiamo visto prima superiore al 30% in corrente e quindi procedo al sovradimensionamento dal neutro come riportato sulla norma. E quindi vado una volta e mezza, a meno che non voglia fare il calcolo con le formule. Se no, in tutte le altre applicazioni, anche qui, prendiamo per esempio, giusto per dare anche qualche valore, prendiamo per esempio un impianto terziario, concedetemi di dire che non ho il data center all'interno di questo, neanche un micro server, ma giusto per collocarci su gli altri componenti che possono inquinare. ormai abbiamo tutta l'illuminazione a LED, quindi valutiamo bene il carico luce in termini di kilowatt e su quello io mi attengo come se fosse il server del data center. Quindi mi aspetto un inquinamento di quel tipo. Poi abbiamo le pompe di calore eventualmente ad inverter, eccetera, eccetera. In una situazione può essere migliore, nel senso che su lì dei filtri sono in genere applicati e di conseguenza considero un contenuto armonico pari al 10%, parlando sempre di corrente, quindi sostanzialmente la norma dice che fino al 15%, la CEI 748, non prendere provvedimenti. Però purtroppo è un dato di fatto. Ricordo portando uno studio del termine, lo stava facendo un data center, uno dei primi, quindi vado indietro di un po' di anni, che voleva proprio, ne andava bene tutto il materiale nostro, ma voleva proprio un analizzatore di rete, che in quel momento c'era solo la Dossena, e giustificato dal fatto che lui adesso avrebbe solo dimensionato il conduttore di neutro, ma voleva verificare in funzionamento, durante il funzionamento, per poi dare indicazioni se tutto era regolare o se bisognava provvedere a buttare un'altra corda in parallelo sulla parte di neutro. Capisco, l'obbligo è un problema, è un problema. Ok? Porniamo, scusate. Allora. Ci sono obbligo in capo ai costruttori di apparecchiature per limitare le armoniche di corrente? Assolutamente sì. In particolar modo, adesso, ormai da anni, c'è l'obbligo dell'eliminazione della terza armonica nelle macchine votanti e del contenimento della quinta. Mentre, purtroppo, io, come dicevo prima, sul contenuto armonico dei dispositivi elettronici c'è ancora molto da fare, c'è ancora molto da fare. Vi posso raccontare un aneddoto. Dopo aver messo in funzione un teatro, un cinema teatro con cabina di media, dopo 4-5 mesi di perfetto funzionamento, ci chiamano perché si sentiva un rozzio perfetto a impianto spento all'interno delle casse audio del teatro. Dopo un'analisi, anche con l'analizzatore, abbiamo visto che sulla rete di alimentazione c'era presente praticamente un 4 kHz fisso e costante. Quei 4 kHz non sapevamo da che cosa fosse generato, ma quando distaccavamo l'interruttore generale, passava. A questo punto abbiamo chiesto, i corti che arrivavano dall'esterno, abbiamo chiesto ad Enel di venire a fare un esame sulla rete che ha confermato avere dentro quella presenza che sarebbe andata ad indagare che cosa fosse successo. Bene, alla cabina di media dell'Ener partivano due forniture, una ha la cabina di media nostra del teatro e l'altra ha una cabina di media che gestiva una stazione di pompaggio di un acquedotto. Finché non avevano sostituito le pompe, tutto andava bene, quando hanno sostituito le pompe con le pompe ad alta efficienza energetica, quindi dotate di inverter, avevano generato quella era la frequenza del PWM degli inverter per fare la regolazione di frequenza che utilizzavano per regolare la velocità delle pompe stesse. Quindi non ci sono dei dati precisi anche se fa parte dell'inquinamento elettromagnetico, quindi la normativa CE dice che il costruttore è tenuto a rispettare le norme che vuol dire che l'inquinamento elettromagnetico in reiezione, quindi anche le armoniche, deve essere praticamente nullo. Quindi dovrebbero fare la macchina e prevedere i filtri opportuni. Io dico dovrebbero perché anche grandi costruttori, a cui mi riferisco all'inverte di azionamento di quelle pompe, non avevano ottemperato, per esempio, a quanto richiesto dalla finestra di compatibilità elettromagnetica della macchiatura CE, pur essendo marcati CE. Ecco, un'altra slide 10 dice che per una determinata frequenza l'impedenza tende all'infinito e questo genera ammonica. Perché questo legame? Il legame è esattamente questo, il problema è la tensione armonica, che come dico, abbiamo detto, è più stringente in termini di contenuto rispetto alla corrente. Quindi mi aspetto che di correnti armoniche ce ne siano tante e ci sia un contenuto armonico in corrente del 30%. In fondo la norma CE ci dice fino al 15% in corrente e non stare neanche a guardarlo. Però ci dice non più del 4% in tensione. Quindi la tensione è quella che dovrei monitorare prima di tutto. La tensione? Ho un generatore che mi genera le armoniche, forse c'era una domanda, la vedo dopo, sul fotovoltaico. E' ok. Ma se ho un generatore sinusoidale, il problema che ho di generarmi una tensione armonica è dovuto al fatto che, per la legge di Ohm, una corrente moltiplicata per una resistenza o per un'impedenza in questo caso, mi genera una tensione. Ora, se ho una corrente armonica, anche bassissima in termini di valore, quindi spettro delle armoniche e il valore è basso, 5%, 2%, ma ho un'impedenza elevata, quel prodotto mi dà una tensione armonica di ampiezza elevata. Quindi il legame è questo. Io, se avessi un'impedenza pari a 0, sarei nelle condizioni, tra virgolette, di cortocircuito. La tensione mi va a 0, la corrente mi va a infinito con le sue situazioni armoniche, ma non ho tensioni armoniche. Al contrario, un'impedenza che mi tende ad alzarsi per basse correnti armoniche mi genera delle tensioni armoniche elevate, che devo eliminare. Questo è il legame. Gli impianti fotovoltaici generano armoniche, purtroppo sì, ma non sono tanto loro, quanto loro generano in corrente continua perfettamente. Il problema è che noi li trasformiamo, ovviamente, per consegnarli in alternata. E qui c'è l'inverter di mezzo. L'inverter tutte le volte che ho una trasformazione da continua ad alternata, o, peggio ancora, nell'UPS che mi arriva alternata, la metto in continua e poi me la ritrasformo in alternata, in genero armoniche. Non c'è verso perché la ricostruzione da un'onda, da una linea, da una corrente continua a corrente alternata, non posso fare altro che tenete presente approssimarla a una poligonale, sostanzialmente, di tanti rettangoli, poi tra i condensatori si cerca di avrotondarla un attimo, ma non è mai una sinusoide perfetta. E ripeto, la sinusoide perfetta l'abbiamo solo attraverso la generazione di tensione, attraverso macchine rotanti. Qui vedete la teoria del campo rotante e si capisce perché solo in quel caso è perfettamente sinusoidale. Quindi, piante fotovoltaici generano armoniche. Torniamo sulla domanda ai differenziali. Per quanto riguarda gli inverti classici, condizionato UPS differenziale da utilizzare può essere di tipo A o per stare tranquilli in cui si installa un tipo F. Allora, su questo la norma impianti è chiara e dice o c'è un'indicazione precisa del costruttore della macchina che ti dice devi usare il differenziale tipo A o tipo F, oppure la norma stessa riporta che per gli impianti monofasi il tipo A è sufficiente. Il tipo F, come abbiamo visto, dà garanzie superiori. Quindi, installare un tipo F in mio viso, in presenza di inverter, dà maggiori garanzie. Ripeto, queste maggiori garanzie guardiamole da tutti e due gli aspetti. Come dicevamo prima, un aspetto alla continuità di servizio, quindi l'interruttore differenziale tipo F è meno sensibile alle perturbazioni sul circuito di alimentazione, quindi scatta meno intempestivamente rispetto a quello A. Per contro, nel caso di guasto di una corrente verso massa con componenti ad alta frequenza, il tipo F ne è più sensibile rispetto al tipo A e quindi le vede e interviene. Quindi, di fatto, l'utilizzo dell'interruttore tipo F rispetto al tipo A, quando siamo in presenza di inverter, assomma di essere più selettivo nei confronti dei disturbi e di capire effettivamente quando sganciare e quando no, è di essere più efficace nel caso dell'individuazione delle correnti di guasto con componenti ad alta frequenza, in questo caso. Quindi, se si vuole stare tranquilli, assolutamente. Io non sono uno che dice che bisogna salire sempre di tecnologia. Se siete sicuri che nel vostro impianto ci sono macchine rotanti, resistenze, eccetera, eccetera, tranquillamente la C funziona come gli altri. Casomai ha degli scatti intempestivi quando arrivano le perturbazioni dall'esterno. tipo F, da questo punto di vista, tipo A e tipo F, oltre nella scala, sono meno sensibili e tendono ad essere meno sensibili verso le perturbazioni esterne. Poi, ho bisogno di usarli bene per individuare il tipo di guasto, perché loro devono più che altro individuare il tipo di guasto. sugli UPS non è presente un filtro attivo. Allora, sì signori, sugli UPS normalmente è presente un filtro attivo. dipende anche qui dalla taglia e dalla marca della macchina. Quindi, ovviamente, UPS di marca e di una discreta, una discreta taglia di potenza, ce l'hanno dentro i filtri che sono più performanti. Ce l'hanno tutti. Quindi, poi, uno può essere un filtro, un normalissimo filtro, un condensatore, tanto per intenderci. Altri hanno dentro, invece, quei filtri, se non propriamente attivi, alcuni anche gli attivi, proprio per evitare, come dicevo, l'UPS è una macchina che è marcata CE per, ovviamente, le regole di commercializzazione, quindi deve rispettare una finestra di inquinamento elettromagnetico. Leggo anche il fatto che l'alta più la frequenza, come sappiamo, è alta, meno il campo, il campo elettromagnetico, rimane confinato all'interno della macchina. Basta pensare alle radio, alle onde radio, queste viaggiano nell'etere, tranquillamente. Quindi, per limitare tutti quegli aspetti legati alle armoniche che pur, seppur di bassa potenza, quindi l'ordine di armonicità, cioè l'ordine dell'ampiezza, può essere molto bassa, però, se vanno soltanto di frequenza, creano comunque dei disturbi che devono essere abbattuti. Quindi, i costruttori, tutti i costruttori qualificati, nel caso specifico degli UPS, hanno dei filtri sulle macchine interne di fisso, non devono neanche essere pensati. Gli enti normatori, concordo perfettamente, dovrebbero essere più rigorosi nei confronti dei costruttori e in particolar modo, adesso, di determinate provenienze e determinate mani. Questo sì.